Allora Do, Re, Mi Fa, So, Ma, Si Do Mi E continua con la sua Do, Re, Mi Fa, Fa, Mi, Re, Do Do, Re, Mi, Fa, So, Ma, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi Fa, 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 Fa Re mi mi re do, e do mi do fa do sol, do la do si, fa la, fa sol la si, sol la si, sol la si, sol la si, sol la, sol la, sol la si, 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 sol la si se non ti sbagliato essere il Do, vedi, ci sono due tasti lì ci sono questo e questo Do, Re, Mi Mi, Re, Do Do, Re, Mi Fa C'è il Re e il Fa, non c'è il tasto nero Fa, Sol, La, Si, Do Sol, Sol, La Sol, Sol, Sol Sol, La, La, La E poi questi sono i bemolli, i nili Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 S